Dovrebbero iniziare la prossima settimana i primi interventi di messa in sicurezza del ponte che sovrasta il fiume Bussento a Policastro. Dopo il sopralluogo dei tecnici di provincia, comune e genio civile è stato deciso di procedere alla pulizia del fiume e di effettuare alcuni lavori che potrebbero evitare nuovi allagamenti. Per il momento dicono dalla provincia non siamo in grado di stabilire quali sono le condizioni del viadotto e quindi che tipo di lavoro realizzare per la sua eventuale messa in sicurezza. Il dato certo al momento è che sarà necessario recuperare la scarpata sottostante la strada crollata durante le esondazioni del Bussento. Intanto l'intera aria continua ad essere monitorata costantemente e sul tratto della statale 18 che sovrasta il fiume resta in vigore il senso unico alternato.